e dopo una bella partita di padel adostando finalmente dopo due anni di grandi sacrifici io e bacco ma benedossi abbiamo fatto il barbacchino meritato bravi ragazzi e si è vinto volevo dire un'altra roba poi a pranzo Antonio voleva i funghi tritolati si tritolati è un nuovo tipo di funghi 39 clouture bettolas tutti col tritolato sono tritolati i funghi l'abbacca piccolo stanza